L'ascensione di Gesù non vuol dire che è andato su da qualche parte, ma vuol dire che è il Signore dell'universo e della storia. E questo ci deve dare una grande fiducia. Vuol dire che il suo messaggio è vero, che il Regno di Dio verrà, che il bene vincerà, che la salvezza è possibile per tutti. Gli chiedono negli Atti degli Apostoli, è questo il tempo in cui ricostruirai il Regno di Israele. Ecco, noi vogliamo vedere cambiare le cose, vogliamo vedere realizzato già subito, ma non preoccuparti di vedere le cose già cambiate adesso. Non sempre vedrai i frutti adesso, ma l'azione di Dio nella storia c'è. Infatti Gesù risponde, non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti, ma poi subito dopo, ma di me sarete testimoni. Tu non preoccuparti di vedere cambiare le cose, ma mostra con la tua vita un inizio di cambiamento. Ecco, questo ci chiede Gesù. Sì tu quel Regno di Dio, quel Vangelo vissuto, che mostra come sarà il mondo, come si trasformerà il mondo. L'ascensione quindi vuol dire accettare il nuovo modo con cui Gesù è presente. Non essere dei nostalgici, non avere nostalgia della presenza di Gesù come nei primi anni. Accettare che lui è presente, sì, ma in un altro modo. Perché? Perché ci dà più responsabilità e anche perché ci dà la voglia di cercarlo. Ecco, pensate una bella ragazza. Se non si scopre troppo, se si copre attira di più che se si scopre. Lo sappiamo. Così è Dio. Dio si nasconde un po', Gesù si nasconde un po' perché ci mettiamo un po' il nostro per ricercarlo. E pian pianino scopro che desidero vedere Gesù, desidero incontrare Gesù, ma pian pianino diventa il desiderio di diventare Gesù. Ecco, un po' i tre passi del nostro cammino spirituale sono ricercare Gesù, trovare Gesù, diventare Gesù. E quando c'è il terzo passo allora inizia la fecondità, inizia veramente i frutti e vediamo le cose cambiare. Ma prima devo essere trasformato io. Ecco, Gesù è il perché della vita. All'inizio del cammino spirituale Gesù è lo scopo della vita, il fine da raggiungere. E questa è già una cosa grande, è una grazia. Poi diventa la condizione indispensabile perché la vita sia vita. Diventa l'essenza della vita. Gesù è la vita. Noi viviamo di Lui, non solo lo desideriamo. Ed ecco che lo incontriamo nell'ascolto della sua parola e nell'ascolto della vita. Gesù ci parla anche attraverso le circostanze della vita, specialmente il grido dei poveri. Gesù ci parla nel silenzio. Gesù ci parla nella preghiera, specialmente quando è preghiera del cuore, quella che non ha bisogno di tante parole. Gesù ci parla nella concretezza. Quando ci mettiamo ad amare, Gesù ci parla. Gesù ci parla nella comunione, quando siamo uniti. E allora, forza, non importa se vediamo tutto subito, importa che lo cerchiamo, importa che lo incontriamo, importa che diventiamo come Lui e che in questo modo saremo capaci di testimoniare quella novità che Lui ha portato perché saremmo diventati Lui.